Stamattina parliamo di Gasperini, delle dichiarazioni di Gasperini per quanto riguarda la questione Cup Miners. A parte che, ripeto, in un'intervista dove devi parlare della finale di Supercoppa Europea ti metti a parlare di Cup Miners, già ti qualifica o squalifica, già ti qualifica o squalifica, però io ripeto, io mediamente ho sempre avuto stima di Gasperini, mediamente, però devo dire la verità, in questo caso ha pisciato veramente fuori dal vaso, ma è in più situazioni. Prima di parlarne, un consiglio. Bellissima la nuova maglia della Juve, allora per averla calciozox.com, mi raccomando, approfittatevi che non c'è ancora lo sponsor, perché senza sponsor è davvero fantastica, perciò acquistatele su calciozox.com, mi raccomando, troverete anche tutte le prime maglie del 2024-2025 di tutte le squadre, perciò qualsiasi tipo di squadra a voi ti fiate, trovate le nuove maglie in qualità perfette. Calciozox.com, codice sconto Attrick per uno sconto che vi offro io del 15%. Amici www.calciozox.com Allora, il caro Gasperini se ne è uscito con delle parole, secondo me, abbastanza gravi, sulla questione Cup Miners, dicendo che la situazione era una bomba all'oroggeria, che si sapeva che ci sono le colpe, dicendo ovviamente, facendo sottintendere che la colpa è della Juve e che non si fa così perché ci sono i ricatti e qua a destra e qua a Manco, insomma le solite cose, invece di parlare della finale Supercoppa si è messo a dire di tutto di più contro la trattativa, perché non è neanche un acquisto la trattativa della Juve con l'Atalanta per quanto riguarda l'acquisto di Cup Miners. Vorremmo ricordare Gasperini che lui allena l'Atalanta e avrebbe dovuto sapere, sapeva già da tempo, che il presidente Pericassi, e non la Juve in questo caso, aveva promesso al giocatore che quest'anno avrebbe liberato Cup Miners per far arrivare un grande club. Perciò adesso da chi cerca queste situazioni, da chi le vuole, dovrebbe rivolgersi al suo presidente e dire, presidente, ma perché l'anno scorso lei ha promesso a Cup Miners di essere liberato per andare in un grande club? Ecco, allora, se lui avesse fatto un'intervista dicendo, abbiamo gestito internamente male la situazione, e non scaricando la colpa alla Juve, che non ha colpe, perché la Juve poi ha fatto un'offerta, punto, se poi con gli intermediari, e non come dicono Ziliane e Pistocchi, il duo Dementis, con degli intermediari, lui ha trovato anche l'accordo col giocatore, cioè la Juve ha trovato l'accordo con il giocatore, con degli intermediari, non capisco dove sia il problema, non riesco a capire dov'è il problema, ma io vi dico una cosa in più, che adesso gira e rigira, vedrete, gira e rigira, vedrete che l'affare Cup Miners, la Juve salterà. Io ve lo dico perché io li conosco queste cose, le conosco, conosco i figli di puttana italiani, io li conosco tutti i figli di puttana italiani, perché poi uno grida di là, uno grida di qua, la stampa ci mette il carico a bastoni e le trattative per la Juve saltano. Ma è colpa nostra, perché non impariamo mai che in Italia il mercato non va affatto, non bisogna trattare con nessuno, non bisogna dare neanche 1,50 euro ai club italiani. L'abbiamo preso nel culo col Bologna, c'era un accordo a gennaio a 27 milioni per Calafiori, arrivi e quelli ne chiedono 50 e Calafiori se ne va all'Arsenal. Adesso Cup Miners l'Atalanta, è sempre nostra la colpa? Ogni trattativo è sempre nostra la colpa? Ma come funziona in Italia? Poi ci dobbiamo sentire pure Pistocchi e Ziliani, Pistocchi e Ziliani che ci vengono a dire che noi abbiamo ricattato, noi abbiamo ricattato. Ma chi ricatti? Ma chi cosa ricatti? Ma avete capito che livello è il calcio in Italia? E noi coglioni, in primis Elkan, perché il più grande coglione della gestione è Juve, e lo continuo a dire, Elkan per la Juve è un tumore, io ve lo continuo a dire, Elkan per la Juve è un tumore, è un qualcosa di maligno, perché poi si attorna pure da gente incompetente, avete visto Calvo come sta gestendo la questione sponsor. Ma insomma, e la gente se la prende con Giuntoli, che Giuntoli ha il gravoso compito di dover sbolognare non so quanti esuberi per volere della merda di Elkan, che non caccia mai una lira, è bravo solo a chiacchierare, per volere di Elkan, e deve fare pure la campagna acquisti d'ingresso con le difficoltà che ci sono in Italia a trattare i giocatori come Cupminers o come Calafiori. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? E qui io leggo di gente che se la prende con Giuntoli, Giuntoli out, ma voi le conoscete le dinamiche delle cose, o no? Voi capite come è messa la società Juve? Io lo dico da tempo, quando Elkan è al potere, sono anni orribili, perché Elkan non ci capisce un cazzo, non è cosa sua. Lo dovete iniziare a capire, non è cosa di Elkan. E lo avete visto, e lo state vedendo, e lo continuate a vedere. Ora, allevato da mezzo il cugino, uno dei presidenti più vincenti della storia della Juve, per carità di Dio, nessuno sta dicendo che Agnelli, che Agnelli nel suo escursus da presidente abbia fatto tutto bene. Ma, se lo dobbiamo paragonare a sta faccia di merda di Elkan, è un grande presidente. Ci ha portato un sacco di trofei, alla Juve ci teneva, ha sempre difeso i colori, ha sempre difeso i tifosi, ha sempre difeso tutto, ha sempre cercato di combattere, non ultima la battaglia per la Superlega, per levare da mezzo il calcio a questi quattro mafiosi. E no, non andava bene, perché poi, sai, gli accordi, gli intralazzi di Elkan con Tizio Caio e Sempronio stavano saltando e allora bisognava far fuori il cugino e bisognava fare pulizia di tutto quello che aveva fatto il cugino. Però la campagna acquisti con la Next Gen creata da tuo cugino te la stai facendo, non cacciando neanche un euro. E noi, i soliti coglioni, come ogni anno, dobbiamo fare mercato andando a chiedere ai giocatori italiani, che poi, ovviamente, siccome siamo la Juve, ci chiedono 70-90 milioni per i brocchi. Ovviamente con Giuntoli andate male, perché Giuntoli fa un'offerta, un po' come è successo a Todibò, se lo vuoi, prestito con diritto, punto. Lo dai un altro per 40, ciao, arrivederci. Ragazzi, è così, è così, non c'è un cazzo da fare. In Italia non devi fare mercato, non meritano un euro dalla Juve, perché ogni volta siamo sempre alle solite. Noi quando dobbiamo vendere, vedi per esempio Kenna, alla Fiorentina in tre giorni è stato venduto, accordo, pacchettato un giocatore spedito, perché c'è stato un accordo veloce. Se ti interessa il giocatore, e a me l'offerta sta bene, via. Avete visto per Nico Gonzales, commisso, eh no, vabbè, ma adesso lo levo dal mercato, è qua, è là, destra, sì. Sempre le solite cose. Noi cadiamo sempre nei soliti trenelli. Noi cadiamo sempre nei soliti trenelli. E Calafiori col Bologno, e Nico Gonzales con la Fiorentina. Ora Cup Miners, ve lo continuo a dire, gira e rigira, lo faranno saltare. Io ve lo dico, gira e rigira, cazzi e smazzi, questo salterà. E noi coglioni siamo sempre lì ogni anno a dire, io faccio l'offerta a Tizio e a Caio Semprano, e ci pisciano tutti in mano. Anche basta. Perciò poi, tutte queste situazioni, che vengono poi ingrandite dai media, dai social media, dai giornali, dalle televisioni, poi ci troviamo a Gasperini, che invece di parlare della Supercoppa Europea, della finale con Real Madrid, parla che loro sono ricattati dal giocatore, e che la Juve, fa capire che la Juve ha fatto dei ricatti, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma dove cazzo vogliamo arrivare? Ma io ve lo dico, con questa proprietà di inetti, di coglioni, di nulla facenti, di pezzi di merda, non si va da nessuna parte. Io ve lo continuo a dire, questi non sono riusciti a trovare manco uno sponsor, per iniziare la stagione. E se la cosa di Ita Airways fosse davvero vera, io ripeto, mi sembra un po' strana, ma se la cosa dell'accordo per 3 anni e 40 milioni fosse vera, ma Elkan e Calvo andrebbero cacciati a calci nel culo, ma andrebbero cacciati a calci nel culo, perché sono degli inetti. Se fosse davvero vera, al di là dei 40 milioni in 3 anni, che sono una miseria, che neanche l'Udinese, neanche l'Albinolef, ma nessun club prende 40 milioni in 3 anni, che sono proprio la fame, oltretutto si fanno pure prendere per il culo del governo, che gli levano pure quei 4 spicci, sono da prendere a calci nel culo. Sono degli inetti, sono dei ritardati, non sanno gestire una squadra. Noi non abbiamo neanche un presidente, abbiamo Cioccolatino Ferrero, a dire sempre le solite cagate, non si fa mai vedere, ogni tanto aprono una minchiata di Elkan, si mette là l'inaugurazione, dice 4 cagate, e questo è il presidente. Ma la vera colpa, ragazzi, è la nostra. Noi non abbiamo una società, io lo continuo a dire da tempo, e la gente se la prende congiuntoli, che sta facendo i salti mortali per cercare di mettere a posto le cose. E ci pisciano in mano tutti, e tutti contro di noi, nessuno che muove un dito, nessuno che dice una parola, nessuno che... Ma è possibile mai? Ragazzi, purtroppo è così. Manca la società, appunto. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. E questo è perfetto, questa cosa. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. E noi siamo causa del nostro male, con questa dirigenza di coglionazzi. E io lo ripeto, lo continuo a ripetere. Questa è una dirigenza di coglionazzi, escluso giuntoli, che sta facendo i salti mortali per cercare di dare la botta alla ruota, la botta al cerchio. E la gente, ovviamente, se cose si è dinamiche, non riesce neanche a capirle, e se la prende congiuntoli, no? Perché poi, vi dice, il mercato lo fa giuntoli, è colpa di giuntoli. Però non sa che poi dietro c'è una schiera di coglionazzi che gestiscono la Juve, che è infinita. In primis, Elkan Riccioli d'oro, che, io lo continuo a dire, l'ho detto già nel video di ieri, è la cosa più lontana dallo sport in generale che esiste al mondo. Ecco, dove c'è la parola sport non dovrebbe apparire proprio la faccia di Elkan. Tutto meno che la faccia di Elkan. Amici, ripeto, fatemi sapere la vostra sotto. So che ci sono tanti, ancora tanti estimatori di Elkan, e me ne dispiace, perché voi sapete che poi la storia andrebbe studiata della Juve, no? Andrebbe studiata un po' la figura di Elkan che viene da Farsopoli, la pessima gestione decennale con Blanc, con Bolligiglie secco, gli accordi con Tronchetti Provera per mandare la Juventus in B. Ragazzi, studiate. Non venitemi a scrivere sotto per piacere, non venitemi a scrivere sotto E per Elkan. Studiate. Dovete studiare. Dovete capire le cose. Dovete capire che il nostro presidente ha fatto causa alla madre. Ecco, e questo dovrebbe già farvi capire il livello di quella persona. Ok? Il nostro presidente ha fatto causa e è in causa con la madre. E questo dovrebbe farvi capire tante cose. Mi raccomando, like e iscrizione a Facebook e colicino e iscrizione a TikTok. Scusate, ma sono a me, quando vedo e sento queste cose è meglio mi infervero. Fino alla fine Forza Juve a Basso Elkan. Ciao, ci vediamo domani. Forza Juve Forza Juve Forza Juve